ameria radio presenta la musica di ameria radio a cura di maria teresa ferrante buonasera e benvenuti alla musica di ameria radio questa sera ascolteremo composizioni dell'austriaco georg christoph wagenzael nato a vienna nel 1715 e morto a vienna nel 1777 fu allievo prediletto del cappelmeister della corte viennese cioè di johann joseph fuchs wagenzael era una figura musicale molto nota ai suoi tempi infatti sia joseph haydn che wolfgang amadeus mozart conoscevano molto bene le sue opere pensate che dal punto di vista quantitativo la produzione delle sinfonie di wagenzael è inferiore soltanto a quella di haydn fu un compositore molto fecondo ed eclettico seppe destreggiarsi con grande successo tanto nel genere sacro quanto in quello profano tanto quindi nella musica strumentale quanto in quella vocale questa sera ascolteremo alcuni dei suoi concerti esattamente quattro concerti il primo per oboe e fagotto in mi bemolle maggiore il secondo concerto è per arpa e orchestra in fa maggiore il terzo concerto è per forte piano e violino in la maggiore per concludere con il concerto per flauto e orchestra in re maggiore e tutti questi concerti sono composti da i classici tre movimenti a farci ascoltare le composizioni di georg christoph wagenzael è l'ensemble eco du den ubb e diretti da alexander weyman buona scolta grazie a tutti 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 grazie a tutti